Il nostro partnership con VUF è già iniziato da un anno, perché da un anno abbiamo preso, senza aspettare la legge del 2011, di cancellare i nostri stacchetti di plastica in tutti i nostri permercati. Quella era la prima tappa del nostro partnership con VUF. Oggi abbiamo una seconda tappa molto importante, quella della dotazione dell'EOSI dei VUF con partnership con i nostri 52 permercati, con la vendita dei sacchetti speciali per questa operazione, con tutti i nostri clienti, per permettere ai nostri clienti anche di girare e di conoscere tutti gli OASI del VUF. Avremo anche per il rientro della scuola un'operazione con la vendita di quaderni ecologici con una parte della margine della vendita che daremo al VUF. Per l'anno 2011 dobbiamo anche lavorare per trovare altre iniziative per arricchire questa collaborazione che per noi è oggi veramente un piacere e un impegno molto importanti. A livello dell'immagine aspettiamo un riconoscimento dei nostri clienti come un'azienda che è un'azienda di riferimento sullo sviluppo sostenibile e sulla protezione dell'ambiente. Non è un posizionamento di marketing, l'ho già detto, è veramente un impegno della nostra azienda e della nostra visione.